e ringraziamo il maestro Battiato per averci dato una mano ad arrangiarlo. Cosa ti aspetti da questa notte? I consigli che la notte dà a te non sono gli stessi che da me bruciano da impazzire le ferite dell'amore ma a volte una scintilla si trasforma in sole chissà che cosa ti aspetti da questa notte che la tua coscienza perda i limiti chissà che cosa ti aspetti da questa notte che la tua coscienza perda i limiti oppure un buon motivo per svegliarti Fai tutti con la mia città non è un gioco da poco chi l'ha detto di noi si può scherzare col cuore e le delusioni personali danno dei buoni spunti creativi chissà che cosa ti aspetti da questa notte che la tua coscienza perda i limiti chissà che cosa ti aspetti da questa notte 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 chissà che cosa ti aspetti da questa notte